Ragazzi eccovi i nomi dei sostituti di chi non ha mandato le clip in tempo e quindi è stato squalificato Quindi nuovi partecipanti vi ricordo di mandare le clip prima della fine del workout di rinnegati Perché poi ci sarà l'estrazione e dopo quella chi avrà mandato le clip bene altrimenti ciao Quindi questi sono i nomi e complimenti a tutti Quindi questi erano i nomi se non sapete cosa fare vi lascio le istruzioni a fine video E mi raccomando mandate le clip entro l'otto perché altrimenti vedete automaticamente squalificati e non ci saranno altre estrazioni Detto questo ci vediamo alla prossima Per la tua luce E' mia